Una parte vostra, Angela Fontano, venne conosciuta evidentemente, aveva solo 19 anni, perché veniva un paio di tre anni fa, insieme alla Gemella, per Indivisibili. Un film di Edoardo De Angelis, che ha avuto un grande impatto, un grande eco, adesso non lo so, anche delle cantanti, studiava una musica, le due gemelle, stanno facendo tutta una carriera di attrici e questo è un altro golo sfida, potremmo dire, perché, il film è stato visto, questa figlia ha un trauma, diciamo che parla molto poco, quindi diciamo che il tuo ruolo è stato evidentemente un ruolo diverso da quello che potrebbe essere un ruolo, come dire, dialettico e tanto aperto. Che storia è stata per te in questo film? In realtà è stato un ruolo abbastanza difficile perché Lucina non parla in questo film, quindi ho dovuto lavorare molto sul corpo, sull'espressione del corpo e grazie a Gigi e a Gio, insomma, che mi hanno aiutato molto in questo. Gigi mi ha portato in tutte le location, mi ha fatto conoscere il mondo di Ucia, Gio mi ha parlato delle persone che vivevano in Basilicata, mi ha aperto anche a questo mondo che io non conoscevo, quello della Basilicata. Quindi in realtà sono molto entrata in contatto con la natura, con questo mondo magico, ho sentito molto le mie sensazioni, le sensazioni che poteva provare in Gia. Ho lavorato appunto con la musica, la musica mi è stata molto d'aiuto perché come musica, una partitura si sorveggia, si sorveggiano anche le pause, così anche le recitazioni ho cercato a interpretare questi silenzi che erano dettati comunque da una musicalità. E poi mi sono allenata da sola con il ballo perché io non ho mai danzato e la mattina mi svegliavo e cercavo in qualche modo di trovare dei passi di danza, soprattutto più vicini a Giocia, che ha vissuto sempre in quel mondo, quindi non era danza moderna, ma una danza molto più antica. E mi sono ricatta molto alle donne del passato e anche a quelle che ho incontrato via. Diciamo che comunque poi siamo abitati in Lucania, penso essere abitati in Lucania, siamo vicini alla Campania, siamo vicini alla tua Napoli, c'è una mediterranea in un sud che vengono fuori e questo è evidente anche dal punto di vista dello sguardo, del viso, dell'atteggiamento come dicevi tu, col polio, visto che il tuo ruolo è il ruolo di una ragazza traumatizzata e evidentemente muta, silenzio potremmo dire. Grazie per questa domanda, la sfida per me di questo viaggio, di questa esperienza era quella di restituire un'esperienza immersiva, sensoriale, io credo che il cinema ci debba portare dove non siamo mai stati e che ci debba dare emozioni. Abbiamo quindi lavorato a lungo sulla scelta delle location e quindi di luoghi che fossero incontaminati, di altitudini, abbiamo portato una macchina studio a spalla in alta montagna, abbiamo portato però anche dei carrelli. Io volevo fare un linguaggio che combinasse il naturalismo e quindi una macchina a spalla che segue i personaggi ma con dei tolli che spingono invece sui personaggi in modo drammatico per l'attenzione di una fuga disperata di un padre e di una figlia. Ci siamo trovati a filmare con un crane in alta montagna con le pecore e i pastori durante un rito. Quindi è stata sì anche una sfida logistica realizzarlo in poco tempo, volevo anche ottimizzare al massimo le risorse del budget che noi avevamo e quindi rendere un linguaggio che fosse dieci volte quello che in realtà sembra. E quindi questo era dare un ritmo vincente ad un racconto contaminando i generi, facendo un film che fosse un'avventura e che potesse restituire il suono, il silenzio, i suoni della natura che potesse diventare quasi un'esperienza immersiva, diciamo, spirituale. Questo è. Salvatore Landi è stato un bravissimo D.O.P., l'abbiamo scelto come per Lucia, i due casting più importanti sono stati, diciamo, tra i vari, ma la scelta di Lucia, la protagonista, è quando l'abbiamo conosciuta, l'abbiamo presa subito, ci siamo, come dire, innamorati della nostra Lucia, dove è stato un angelo, Angela per noi, e l'altra è quella del D.O.P., perché tenere 40 kg di macchina da presa spalla e in piena sequenza lunghe che permettono agli attori di dare una performance in tempo reale, di vivere le proprie emozioni in luoghi imperdi, ecco, era una sfida che anche Dio che poteva accettare. Allora dice Lucia, non so perché mi sono voltato, perché ho imprenditamente visto l'ipotetica Mondello, Lucia Mondello adesso, vedendola così, di tre mesi.